Molto bene, ora applichiamo gli esercizi di respirazione che abbiamo visto insieme direttamente alla tuba in maniera che lo strumento con le sue diteggiature ci aiuterà a variare la resistenza dell'aria in questo modo andremo a creare un super allenamento per il diaframma prima cosa come ci sediamo sulla sedia vedo molte persone che fanno questo piegando il tronco in avanti in realtà no la cosa giusta per sedersi è rimanere in linea con i nostri tre punti della colonia vertebrale scendiamo gradatamente fino a che non si tocca la sedia a quel punto sempre per evitare schiacciamenti delle vertebre e quant'altro per prendere lo strumento non dobbiamo inclinarci noi no semplicemente rimaniamo nella postura corretta faccio da perno lo strumento sulla gamba sinistra e a quel punto ecco che la tuba me la ritrovo già pronta per suonare ora i prossimi esercizi te li spiego e poi li facciamo insieme attiveremo andiamo utilizzare lo strumento come resistenza già il fatto stesso che soffiamo e l'aria deve passare in un canneggio lungo dai quattro metri se la tuba è in fa o sei metri se la tuba è insieme molle ecco questo genera sicuramente una resistenza dell'aria questo ci aiuterà a faticare maggiormente con il diaframma ora prova un po semplicemente a soffiare aria dentro la tuba bene adesso prova ora a ispirare aria da dentro la tuba senti com'è già più faticoso ora l'esercizio che faremo adesso è in tre quarti tre pulsazioni a 60 di metronomo tre ispirazioni con aria e cercare di prendere tutta la capacità polmonare se uno arriva in fondo che sente che magari avrebbe ancora della della capacità polmonare cerchiamo di accelerare prendiamo più aria creiamo come un crescendo ok dopodiché rimaniamo tre secondi fermi immobili con l'aria dentro i polmoni e poi andremo a soffiare in sei secondi se ti ricordi ti ho già spiegato tutto il discorso del nervo frenico del sistema periferico sistema nervoso centrale e così via e noi dobbiamo lavorare maggiormente sulla espirazione per riuscire a rilassare i muscoli e a incamerare sempre più aria perciò ecco perché tre secondi dentro sei fuori a quel punto dopo l'esalazione di sei secondi faremo un'altra apnea di sei secondi senza aria nei polmoni questo per attivare un meccanismo inconscio c'è una una fame di ossigeno che ci porterà a fare un grande respiro come si deve ok proviamo accendo il metronomo bene uno due tre insieme apnea fuori bene apnea Sì. Grazie. E... relax. Ottimo. Questo è un primo esercizio con poca resistenza da parte della tuba. Ora andremo gradatamente ad aumentare la resistenza allungando il canneggio generale dello strumento. Perciò adesso il prossimo lo faremo con il secondo tasto abbassato. Due e tre. Dentro. Fuori. Grazie. 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 Relax. Senti già come semplicemente un tasto in più cambia completamente la fatica fisica nell'eseguire l'esercizio. Questi sono allenamenti respiratori molto anche duri in un certo senso ma che servono appunto per allenare il diaframma. Il diaframma è un super muscolo, è attivo da quando siamo nati per 23.000 volte al giorno perciò è super allenato. Per riuscire ad andare ad allenare ancora maggiormente un muscolo super allenato abbiamo bisogno di fargli un carico di lavoro estremo. Perciò ecco che dobbiamo usare tutta 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 la nostra capacità respiratoria e le apnee ci aiutano in questo. Andiamo avanti adesso col primo tasto abbassato. Stessa cosa facciamo tre quattro ripetizioni non di più per ognuno. Una piccola pausa e poi si va avanti. Il primo tasto è lo schiaccio da qua. Due e tre. Dentro. Fuori. Apnea. Dentro. Dentro. Grazie a tutti. E relax. Espira dal naso, riossigena i tuoi polmoni e ci prepariamo per rendere l'esercizio ancora più difficile. Adesso primo e secondo tasto abbassati insieme. Il canneggio si fa sempre più lungo e sarà sempre più duro. Ok? Per mia comodità, avendo la tuba a sei cilindri, uso il quinto e il sesto della mano sinistra, che così sono libero di gesticolare e di farmi capire da te. Accendo il metrono. Ok. Uno, due e tre. Via! Questa è la mia conoscenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.